stai in piedi adesso e marco dove riesci stai in piedi e marco dove riesci 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 in piedi e ci riposiamo un po' facciamo quel pezzettino qua poi ci fermiamo quindi calmo se non serve fare un cavolo è meglio forse si l'ho fatta un altro giorno e dove era caduto è molto simone qua 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 ha fatto clou meglio ho messo a posto i sassi nel programma è molto meglio sali da lì dove c'è il simone dritto e se scendi salti su diritto molto meglio e se scendere e se scendere No, no, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti.